Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV alla resegna stampa Occhio ai giornali del mattino. Allora intanto possiamo dirvi subito che fa molto freddo, quindi si state per uscire, ci state seguendo in diretta alle 7.30 di questa mattina. Insomma copritevi perché fa freddo. Il freddo lo vedremo tra un istante, porterà della neve ancora per la giornata di oggi. Ma andiamo con ordine e vediamo il santo del giorno. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda la Beata Chiara Bosatta. Il sole è sorto alle 6.17 e tramonterà alle 19.57. Allora dicevamo il tempo, andiamo sul sito di trebimeteo.it, questa è la grafica per la giornata di oggi, la mattinata. Vedete ancora questa perturbazione che porterà nel pomeriggio ma anche in mattinata, vedete nell'entroterra, il limite delle nevicate sarà intorno ai 900 metri. Ma si scenderà man mano che si va giù al sud anche in collina. Questa è la serata, ancora vedete perturbazioni, pioggia sulla costa, neve che scende di quota. Poi questa è l'immagine della notte. Venerdì domani, invece venerdì continua l'aria fredda però il tempo migliora, la perturbazione lascia la nostra regione. E sabato ancora, vedete, tempo soleggiato con vento, domenica peggiora, peggiora di nuovo ma si rialzano le temperature. Attenzione perché durante, e qui siamo di nuovo a giovedì, durante la giornata, la serata, insomma ci saranno, vedete, 300 metri il limite delle nevicate al sud, nell'Ascolano, Terramano. Insomma oggi è una giornata tipicamente invernale, niente a che vedere con la primavera. I giornali, cominciamo dal resto del Carlino, la fotonotizia è per gli anziani, sempre più poveri, sono sempre di più infatti gli oltre, gli over 65 anni assistiti dalla Caritas. Qualcuno va all'ora di chiusura del mercato per racimolare gratis un po' di frutta e un po' di verdura dagli ambulanti. Le loro storie e il nostro reportage, il reportage del resto del Carlino, il titolo Poveri Anziani. I giorni neri dei ciclomatori, invece anche c'è un altro ciclomatore, un'altra persona amante della bicicletta che purtroppo è finita a terra, adesso è gravissima alla Toretta di Ancona. Dopo la tragedia di Vergili, l'uomo che è morto d'infarto, c'è un altro dramma, stavolta sulla panoramica della San Bartolo, una donna straniera che appunto ha battuto la testa, adesso è gravissima. Poi si parla nel giornale di questa mattina di una spaccata all'ottica, in un'ottica di gabice, bottino ridotto perché sono entrati in azione i fumogeni. Poi un caso a Mercatello sul Metauro di un maresciallo troppo amico che è finito sotto processo, una storia che troverete a pagina 19. Tribunale di Pesero, il bar ha giudicato da una società per 17 mila euro l'appalto alla New Power. Entriamo nelle pagine interne, dunque partiamo dalla cronaca, cade in bicicletta sul San Bartolo, gravissima, una ciclista amatoriale svedese perde l'equilibrio, soccorsa in l'ambulanza. La donna a 50 anni ha battuto la testa violentemente ai soccorsi chiamati dai compagni. Oggi invece a Villa San Martino il funerale di Patrizio Virgili alle 10.30, l'ultimo saluto. La pagina di Fano, la crisi svuota i carrelli, 14 euro per la spesa. La CNA calcola gli scontrini medi. Fano molto più povera di Pesero e Senigallia. Secondo l'osservatorio del Centro Studi CNA delle Marche, lo scontrino medio a Fano è di 14 euro, molto più basso di quello di Pesero, addirittura di 22 euro, ma anche di Senigallia che ha uno scontrino medio di 17 euro. L'altra pagina, no, sempre sulla pagina di Fano, scusate, del resto del Carlino, chiude anche l'Osteria del Caicco. Il Centro Storico di Fano si spopola, la stagione gezzistica troncata proprio sul finale. Ha chiuso dunque l'Osteria del Caicco, l'ultimo giorno di lavoro è stato il lunedì di Pasquetta. Da martedì il titolare Roberto Agostini ha iniziato a liberare il locale perché il proprietario non ha rinnovato il contratto che scadeva il 30 di aprile. L'ex ministro Chiang, nella fotografia tra gli amici di Passaggi, sarà lei infatti ad inaugurare la prima mostra reportage. Intanto è partita la campagna di tesseramento, l'esposizione testimonia la fuga dalla guerra verso l'Europa. Colpo di sonno invece per questo signore che in tanti riconosceranno, stiamo parlando di Andrea Busetto, allevatore, sta decidendo di dare un cambio alla sua vita perché a un certo punto racconta lui, a Davide Eusebi, il giornalista del resto del Carlino, ho avuto un colpo di sonno mentre ero in automobile, ho rischiato la vita per il latte, adesso dice basta, troppo stress e cambio vita, ho capito che sto esagerando, dice ancora l'allevatore, consegnerò il mio prodotto solo a chi ama davvero la qualità. Andiamo sull'ultima pagina della nostra rassegna stampa per quanto riguarda il resto del Carlino, nuova luce nelle piazze e LED ovunque a San Lorenzo in campo, c'è un accordo con Megas.net per interventi da 750 mila euro. A destra vedete il sindaco di San Lorenzo, Davide Dell'Onti, con il presidente di Megas.net, a Lighiero Omicciole. A giorni verrà affidata la progettazione esecutiva, entro l'anno l'avvio dei lavori. A Serra Sant'Abbondio invece la notizia che purtroppo non ce l'ha fatta Silvana Conti, di 80 anni, vittima di un incidente stradale lo scorso 2 aprile nel centro del paese, è morta per i gravissimi traumi riportati. Nello scontro tra l'auto in cui viaggiava con il marito, la figlia e il suo fidanzato e quella condotta da una 23enne residente appunto a Serra Sant'Abbondio. Adesso andiamo invece sul Corriere Adriatico. In prima pagina la fotografia, guardate, di questa auto che ieri mattina si è ribaltata, ha fatto tutto da sola questa ragazza. Per fortuna è stata salvata in extremis, ha giusto in tempo dai Vigili del Fuoco perché subito dopo l'auto ha cominciato a prendere fuoco ed è stata divorata dalle fiamme. Prima la sbandata, poi fuori strada violentissimo, alba di paura sulla panoramica dell'Ardizio a Pesaro. Chiusa in via precauzionale la strada, disagi per il traffico. Attenzione alle truffe, i professionisti della truffa, finti tecnici addirittura adesso della Sisal in azione, allarme dei tabaccai, diverse le segnalazioni. Andiamo a vedere subito sulla pagina interna del resto del Corriere Adriatico. Allora, innanzitutto, non ci sono soltanto gli anziani come obiettivi. Come obiettivo si escogitano sempre più stratagemmi per aggirare il prossimo. I tabaccai sono nel mirino. Insomma, le truffe più comuni sono il falso incidente, lo specchietto rotto, i falsi funzionari, la verifica dei soldi, l'amico di un familiare che torna dopo tanto tempo. Insomma, la cosa più importante da tenere sempre a mente è che di norma i truffatori agiscono in coppia e cercano di entrare nel vostro appartamento con un pretesto, di controllare una bolletta, si dicono falsi funzionari appunto dell'Enel, della Sisal, insomma inventano tante storie. Ma la cosa importante è che non sembrano dei malintenzionati, anzi, tutt'altro, sono sempre molto gentili, usano modi e toni sempre educati, affabili, però sono decisi. Vogliono entrare dentro casa e soprattutto, se sono in due, uno intrattengono il padrone o la padrona di casa, l'altro, quando voi proprio non ve ne accorgete, comincia a sgattaiolare nelle camere in particolare e aprire cassetti armati per cercare l'oro, per cercare i soldi. Quindi attenzione, non fate mai entrare nessuno, lo diciamo allo sfinimento. È primavera, ma sembra inverno, neve e gelo, agricoltura al tappeto, da estate anticipata colpa di coda artico, però il ponte del 25 aprile dovrebbe, secondo le previsioni del Corriere Adriatico, dovrebbe essere salvo. E sempre di gelate, di problemi che possono dare questi sbalzi, tra siccità e grandine, poi il diluvio, problemi ai frutteti, per esempio, devastati, queste situazioni che hanno creato disagi un po' ovunque. Gli agricoltori, qui siamo sulla pagina di Fano, lottano contro il meteo pazzo, mentre le fiere, invece, incoronano il vino del nostro territorio, il vino che si fa qui nel Fanese. Di Sante, della Coldiretti, dice, fortuna che per molti è ancora periodo di semina e dunque questo ha fatto sì che i raccolti fossero salvi. Raffica di controllo, invece, durante la Pasqua, un arresto e tra i rifiuti spunta anche della cocaina. In azione, 15 genti del commissariato di Fano, tra gli identificati anche un quarantenne fanese. Doveva scontare 18 mesi per troga. Battuta a tappeto la zona di Bellocchi di Fano, sotto un bidone ritrovati 50 grammi di stupefacenti. Mentre, narcotizzato nel sonno per un furto da 70 euro, la banda del foro, quella che pratica un foro negli infissi per entrare, sono entrati a casa di un signore che di cognome fa Battistini, ve l'abbiamo intervistato, ve l'abbiamo fatto vedere l'altro giorno nel telegiornale, a Gimarra di Fano, ripulito anche il frigorifero. Poi hanno preso soltanto 70 euro. A Fermignano, invece, a tempo del Paglio della Rana, Fermignano prepara la festa, domani è l'atteso appuntamento, il Clu domenica con la sfida tra le contrade. Il sindaco Feduzzi rassicura, soprattutto gli animalisti, massimo rispetto e grande tutela per gli animali coinvolti. Sul gatto impiccato a Cagli si indaga per intimidazione. Le guardie zoologiche dell'OIPA dicono uno dei fatti più cruenti mai visti. Il gatto ucciso faceva parte di una colonia formata da 3-4 felini accuditi da un cittadino di Pieglia di Cagli e da un suo amico che regolarmente davano loro da mangiare e avevano attrezzato una piccola area con un capanno per poterli ospitare e riparare dalle intemperie. Evidentemente hanno dato fastidio a qualcuno. Giro di vita, invece, siamo in chiusura a Senigallia sui ragazzini vandali. Petizione per chiedere le spy cam. Continua la serie di blitz dalle gomme delle auto in sosta squarciate alle cabine dell'Enel di Vente. Questa è un po' la serie nera di tutta una serie di atti vandalici compiuti nel territorio di Senigallia dalle cabine telefoniche danneggiate sul lungomare Da Vinci il lancio di sedie al foro annonario il giovane con la busta in testa che attraversa la strada sfidando la sorte e mettendo in gioco la propria vita in via Capanna. Insomma, vedete questo qui che si è steso per farsi fotografare sopra il segnale dello stop insomma, tutti i selfie, tutte cose da fuori di testa. Il pugile, invece, scatenato torna a seminare il panico l'uomo dà in escandescenza e ferisce carabiniere e poliziotte e viene tratto in arresto. È successo a Senigallia ed è di nuovo lui, il pugile questo italo-israeliano arrestato da carabiniere e polizia in collaborazione con i vigili è un trentenne che ogni tanto, ahimè, sbrocca e fa tutte queste cose qua. Aveva appena lanciato una bottiglia contro un autobus con dentro degli studenti ed è stato bloccato. Queste sono le notizie più importanti secondo noi, naturalmente e che vi abbiamo raccontato questa mattina nella nostra rassegna stampa questo invece è il numero di telefono per le vostre segnalazioni noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia a voi tutti gli auguri di una buona giornata.